Ciao ragazze, ciao ragazzi, con questo tutorial vi vogliamo spiegare come chiamare Joaquin Shaza attraverso Skype. Sulla barra di Google digitate Skype telefonate e il primo link che viene ci cliccate sopra e vi manda sulla pagina Skype. Vi chiede dove desideri chiamare in questa barra, digitate Repubblica, già la DEM viene appunto Repubblica Democratica del Congo. Selezionate Credito Skype e vi dice che costa 49,6 centesimi al minuto più 6,6 centesimi di scatola risposta. Aggiungi Credito Skype, selezionate 10 euro e continuate. Ora Skype vi dà due possibilità, acquistare credito attraverso la carta di credito, quindi seguite, mettete tutti i vostri dati e cliccate su Paga ora, oppure attraverso Paypal. Stesso discorso, continua, mettete la vostra mail e la vostra password di Paypal, le vostre credenziali e seguite e perfezionate l'acquisto. Una volta acquistato il Credito Skype avete due possibilità, o chiamare attraverso il PC e quindi entrate nel vostro profilo Skype, cliccate su Chiamata e digitate questo numero più 243 99 20 95 085. Oppure la seconda possibilità attraverso lo vostro smartphone, l'applicazione di Skype, stesso discorso. Chiamate e potrete così parlare con i vostri bambini. attenzione, seguite il gruppo Facebook dove metteremo gli orari e i giorni per poter chiamare o i bambini che frequentano gli alimentari o i bambini che frequentano la materna, mentre per quanto riguarda i bambini della casa o se volete parlare anche con noi potete chiamare tutte le sere dalle ore 18 e 30. Ok ragazzi, spero di essere stato preciso e vi saluto. Bye bye!